Ben tornata a Sabrina dalla Giovanna di Mulino dalla Giovanna, nostro sponsor, uno dei fornitori principali di farina. Una domanda che racchiude molti segreti della preparazione di un lievitato come il panettone. Quanto è importante la scelta della farina e come influenza un dolce come il panettone? La farina è fondamentale nel panettone perché sono le basi, sono come i mattoni per costruire una casa. È fondamentale avere una farina tecnica specifica per la produzione del panettone che possa aiutare nella lavorazione, nella realizzazione del prodotto e che aiuti anche nel mantenere lo chef live del prodotto, che aiuti a non seccare il prodotto e essere morbido più duraturo nel tempo. Quindi direi abbastanza importante come scelta. Molto importante. E il mulino della Giovanna aiuta molto in questa. Ci proviamo, facciamo del nostro meglio per avere questa farina appunto per il panettone. Ne abbiamo di due tipologie, di doppio zero, quindi la farina panettone e la panettone Z, studiata in collaborazione con il maestro Achille Zoia. E poi abbiamo un liqua blu, che è una farina tipo 1, adatta per i panettoni, studiata insieme a Denizia Nina. Ciao, siamo contenti di avervi anche quest'anno qui con noi. Buon re panettone 2016! Grazie. Grazie a voi. Grazie.